Eeeh, salva a tutti, watch che bari, io sono Super Geomaster e oggi benvenuti nel terzo episodio di Nuffwork. Nel scorso episodio ho sbocchiato Phantom G, Phantom Foxy ed è ritornato nel party, anche Phantom Balloon Boy. E ora, dopo aver sconfitto Isor nella misteriosa miniera, siamo qui nel mondo della neve e quindi andiamo avanti. Waiter Foxy, sempre Foxy, ma molto più YARG, ARG. Ok, eccoci qui nella Dustin Fields, anche se non si legge bene. Comunque, ok, stiamo contro i Chillax e quindi affrontiamoli allora. Perfetto, Toxys Balloons, balloncino tossico. Ok, spero tanto di sbloccare degli altri personaggi, perché alcune volte succede che non sempre i personaggi che si sbloccano sono sempre gli stessi. Infatti, nello scorso episodio il primo personaggio che ha sbloccato non è stato Phantom Manwall, ma è stato Phantom Foxy. E alcune volte succede che i personaggi si sbloccano tipo o subito oppure lentamente. Esattamente. Comunque, qui c'è l'Oilbit. E l'Oilbit vende ovviamente la morte. Ovviamente. Compriamo la morte. E andiamo. Abbiamo già 4 byte. Purple Guy. Il grande Purple Guy, ovviamente. Ok, andiamo. E andiamo a parlare con Fredbear. Il supertunnel bus app. E' un reverence slice up to the path. Ok. Sì, vabbè, tanto comunque io la storia lo so già. Praticamente io andando a guardare un po' su Google, un po' su Wikipedia, Wiki, eccetera. Ho capito un po' la trama. Diciamo che Fredbear, nei vari dialoghi che dice, dirà che, diciamo che, per colpa di qualcosa, a qualcuno, il mondo degli animatronics è stato tipo corrotto. E' al punto, per esempio, tutte queste cose, tutte queste creature bizzarre che ci sono, non ci devono stare per nessun motivo. E infatti noi comunque dobbiamo anche trovare, come l'albero glicciato, queste specie, non so, forse è questa pianticina o quel massolato. Le mentrarci per passare avanti nei vari modi, infatti. E' abbastanza complicato, ma vabbè. Comunque, siamo contro i Boxbite, che mi ricordano tantissimo i Womp di Super Mario. Addio, Boxbite. Perfetto. Allora, qui c'è la miniera, però dobbiamo affrontare il terzo boss. Esattamente. Siamo pronti? Andiamo. E affrontiamo Bouncer, il pupazzo di neve con le mitragliatrici. E' un boss fichissimo questo. E' un boss davvero fico, lo adoro. Ok, vai, morte, attacca. Cosa fa? Oh, madosca. Cacchio, quanta vita mi ha fatto. Oh, mio Dio. Vai, abona, attacca. Ok, andiamo. Toxies Balloons. E' andato. Addio, Bouncer. Oh, yeah, raga. Sempre più forti. Oh, nuovo personaggio. Phantom Freddy. Ok, un altro Phantom nel party, dai. Esattamente perché i Phantom Animatronics sono i primi Animatronics che si sbloccano in Fluff World. Addio. E Phantom Freddy entra nel party, ovviamente. E penso che la cosa giusta da fare sia togliere, togliere Freddy. Anzi no, togliamo Foxy e mettiamo Phantom Freddy. Ok. Possiamo andare? Sì. Ok, prendiamo la cassa dorata ed entriamo nella miniera. Eh no. Allora, andiamo con Ring Day. Ok, la sua difesa è scesa. Addio. Esattamente perché più si va avanti, più si blocchiamo Animatronics forti, più le battaglie saranno facili. Però più avanti si va, i nemici saranno più forti. Stiamo adesso nella seconda miniera. Dobbiamo andare sempre dritti, anzi no, dobbiamo andare da questa parte. In questo modo. Oh, siamo contro i Quarry. Ok, mi sa che sono meno forti rispetto ai Gold Mine. Ok, adesso Anscriu. Vedete, muoiono molto facilmente. No, niente. Sì, ma Bonnie non si stanca a muovere sempre la mano e il suonare la chitarra, cioè dico. Non si sa. Ok, adesso andiamo avanti, ragazzi. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, quello è andato via. Molto bene, ragazzi, molto bene. Ok, livelliamo perfettamente, ragazzi. Ok, adesso dobbiamo andare avanti. Allora, da questa parte andiamo. E di qua cosa c'è? Ok, siamo contro iZord. Mi rispettiamo tanto se forse sentirete dei rumori. Vabbè, comunque. Ok, andiamo, ragazzi. Andiamo, perfetto. Appunto, colpiamo Aizor nei peggiori dei modi, ragazzi. Ok, occhio, occhio. Ah, brutto Aizor. La vendetta di Aizor sarebbe questa. Ok. Oh, mamma mia, non mi ero accorto che quello là era morto. Ai, ai, ai. Eh, oddio, come? Ho già perso del tuo pagino. Brutto. Muori, cattivone maledetto. Ok. Non attacca nessuno. Perché non attaccate? Non attacca nessuno. Ok, morto. Ok. Ce l'ho fatta, raga. Che bello. Leveliamo perfettamente. Nuovo personaggio. Phantom Angle è tornata. Eccoti qui, bella mia. Io adoro Phantom Angle perché muove la testa nel modo più assurdo, in assoluto. Ok. Oh, che è successo? Ok. Phantom Angle entra nel party. Perfetto. E andiamo avanti, ragazzi. Ok, ecco qui. Phantom Angle la mettiamo al posto di nessuno. Vediamo un po' al posto di Toy Bonnie. Mi sembra la cosa giusta da fare. Allora, scusate tanto se state sentendo dei rumori, ma... Putate. Adesso, prendiamo... Ah, eccoci qui. Perfetto. Questo è molto importante, raga. Molto, molto importante il chip che abbiamo appena preso. Il chip del Gift Boxes. Molto, molto bene, raga. Molto bene. Comunque, adesso possiamo anche scendere, però... Non è finita qui. Perché, infatti, devo andare a fare una bella cosuccia. Perché ci manca ancora a prendere un altro chip. Esattamente. Ok. Ah, screw. Pizza Wheel 2. E abbiamo vinto. Perfetto, perfetto, perfetto. Mamma mia, come muove la testa. Nel modo più bello assoluto, guarda. Allora, adesso dobbiamo andare giù. Vediamo solo per vedere un attimo dalla mappa. No, sono... Oh mio Dio, sono veramente andato via da qua. Allora, adesso devo controllare un attimo. Adesso devo andare da questa parte. Esattamente. Poi, per arrivare là, come devo fare? No, qua non si può. Mamma mia, quanto è difficile muoversi da questa parte. Oh mio Dio. È un casino totale. Ok. Ok. So come arrivarci. No, non so come arrivarci. Ok, capito. Ok, andiamo, 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 andiamo da questa parte. Oh mio Dio. Cacchio, si va. Ah, eccoci. Mamma mia, se è difficile. Scendiamo, 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 andiamo giù, andiamo giù. E adesso andremo a prendere là. Il nuovo chip. Andiamo ragazzi. Ed eccolo qua. Di nuovo Aizor, ovviamente. Questa è la seconda volta che lo affronto. Diciamo la terza volta, in realtà, eh. Devo essere sincero. Ok, Waterhouse Mystery Boxes. Ok, W3C che abbiamo. Oddio, c'ho due Wither e Chica. Perfetto, allora. Oh sì, così si va. Ok, Jumpscare. Andiamo avanti ragazzi. Cupcake. Rice Ball. Non ci provare, bello. Non ci provare. E ora è andato. Addio Aizor. Perfetto, raga, perfetto. 750 punti di esperienza. E saliamo ovviamente di livello. Ok, nuovo chip. Il chip della forza. Boom. Phantom BB. Because reasons. Viscera. Viscera. Molto bene. Adesso qui nella miniera abbiamo fatto tutto quanto. E ritorniamo nel regno, appunto. Ok, raga, adesso. Andiamo avanti. Questi nemici proprio non li sopporto proprio. Ok, Glom Song. Pesh Jam. Ok, sconfitti, raga, sconfitti. Perfetto, perfetto, perfetto. E adesso devo andare appunto dalla parte del del coso glitchato, infatti. Ok, allora. Andiamo. Andiamo avanti. Oh, cacchio. Vabbè, questi sono forti. Questi sono scarsi, volevo dire. Ok, andiamo. Toxies Balloons. Molto bene. Ok. Morti. Molto bene. Così si fa. Ok, adesso siamo pronti. Andiamo avanti. Adesso, raga, facciamo una cosa. E poi concludiamo il video, raga. Adesso qui dobbiamo andare diciamo qui in questo subspazio totale. Mi dispiace tanto se state sentendo forse dei rumori. Scusate tanto. Però adesso dobbiamo entrare qui dentro. Oh mio Dio, quanto inquietante sta roba. Ok, questa roba è inquietante, però. È molto inquietante. Ok, adesso possiamo andare di qua. E andiamo qua. Perfetto. Nightmare. This is why you wake up. Molto bene. Eccoci qui, raga. Allora, ragazzi. Sapete una cosa? Io direi di concludere qua questo terzo episodio di Snap World, ragazzi. E quindi questo è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.